E dopo aver fatto recensioni per singola cuffia ho deciso di fare un unico video dove accorperò tutti i migliori acquisti che si possono fare su Amazon con un budget massimo di 40 euro. E allora ragazzi guardate un po' quante cuffie ho selezionato per voi, queste le potrete acquistare tutte su Amazon ma andiamo ad analizzarle una per una e capiremo se in questo lotto di cuffie ce n'è una che fa al caso vostro. Ed eccoli qua, tutti gli auricolari messi insieme a questa reunion, cerchiamo di capire un po' se c'è un auricolare adatto alle vostre esigenze. Partiamo da quello più economico del gruppo, gli Umidigi U-Pods che sono questi qua, cloni o sono stati copiati, non so chi ha copiato chi, clonano le Redmi AirDots prima generazione quindi avrete presente di cosa stiamo parlando, auricolare fatto a nocciolino, sono in-ear quindi hanno il gommino che entra nel lobo del vostro orecchio, i pin di ricarica e il pulsante è fisico quindi si preme e quindi si schiaccia, non è un pulsante touch. A livello di costruzione solamente il voto 6 perché è una plastica piuttosto leggera, si sente che non è una plastica premium, ricarica con la porta micro USB, buona la batteria, sono più auricolari magari votati all'ascolto della musica piuttosto che alle telefonate perché l'audio non è che sia proprio fantastico, da segnalare anche una leggera asincronia audio-video quindi auricolari molto buoni se presi a metà prezzo perché costano 29,99 e spessissimo vanno a 15 euro. E passiamo a questi due modelli sempre di Tronsmart, sempre con il chipset di Qualcomm aptX come potete notare e quindi vanno a nozze con i processori Snapdragon, ottima la connettività, Bluetooth 5.0, concezione molto molto simile, due microfoni, dura abbastanza la batteria, abbiamo la cancellazione del rumore qua sulle Onyx Free, abbiamo oltre a una resistenza maggiore all'acqua anche lo sterminio assoluto dei batteri, quindi quelli più fissati con la pulizia e la sterilizzazione magari potranno acquistare le Onyx Free. Onyx Free che hanno ovviamente l'ingresso in ear, con il gommino, ci sono i gommini di ricambio nella confezione, il leddino che si illumina e il pulsantino che si preme, quindi il pulsantino fisico che si schiaccia. Ecco vi faccio vedere anche questo cipettino qua che va a inizializzare i raggi UV, quindi lo sterminio assoluto dei batteri simili ma diverse le sorelle, le Onyx Neo. Il case cambia, diventa più ovale, non abbiamo la sterilizzazione e oltre a essere in ear hanno i comandi touch, quindi se volete usare lo sfioramento e non lo schiaccio, questo è un auricolare da preferire. È un pochino più grande delle Free, quindi anche lì conta molto il gusto per l'estetica, come potete notare. Entrambi si ricaricano con la porta di tipo C, quindi non avrete problemi a livello di tecnologia di ricarica, sono belli, moderni. Ecco magari non hanno questa grande qualità a livello di audio e telefonate. Sono nella media, darei un 6,5 per quanto riguarda l'ascolto musicale e la chiamata. Ma qual è la cosa positiva? È che hanno un chipset di qualità, hanno una batteria veramente molto buona, durano tanto, pochi sono i difetti, l'unica cosa è che non brillano dal punto di vista dei bassi, questo ci tengo a precisarvelo, ma costano non tanto, si parla di 25€ in offerta per le NIO, che hanno solamente un leddino qua, a segnalare lo stato della ricarica, 4 leddini sulle Free che aumentano di prezzo, vanno a 33-34€ spessissimo in offerta. Saliamo come qualità, ragazzi, volevo parlarvi di queste. Questo è un marchio famoso, Honor, Honor Choice, che sviluppa gli auricolari True Wireless, le X1, Moisen, sono spesso in offerta questi auricolari, vi dico subito, 30€ il prezzo medio, si trovano sui 28€ quando c'è un codice sconto, o offerte lampo, e sono auricolari molto validi, ragazzi, perché? Perché prima di tutto hanno questa custodia che è realizzata molto bene come plastica, è molto buona, ha una buona qualità, ha un piccolo led, la porta di ricarica è di tipo C, quindi una tecnologia fatta bene, una tecnologia moderna, e lontano o lontanamente ricordano le cuffie di Apple, le AirPods Pro, e quindi hanno magari un fascino maggiore verso il pubblico che con soli 30€ se le può portare a casa. Hanno una ricarica veloce, hanno un volume che non è altissimo, ma comunque si fa apprezzare, e i bassi ci sono, ma non spicca questa tipologia di cuffie per i bassi. Però sono sicuro che piaceranno a tanti di voi, materiali usati, voto 7, in qualità sonora voto 7, e qualità prezzo voto 7.5, quindi capirete che sono delle cuffie che io consiglio sicuramente. Andiamo adesso a parlare del podio, del trio delle meraviglie che ho selezionato per voi, o chi, ok, TrueBuds di Soundpeats e Tronsmart Onyx Ace. Quindi cari ragazzi, se state guardando questo video e avete già una di queste tre cuffie, sappiate che avete fatto un'ottima scelta, e ve le metto qui. Sono queste le cuffie a cui mi sto riferendo. Andiamo un po' ad analizzarle. Sicuramente la cuffia più chiacchierata è questa. L'ho consigliata a tanti di voi, tantissimi, sono rimasti super contenti. L'hanno ordinata bianca, l'hanno ordinata in versione nera. I link sono comunque tutti sotto o qui in descrizione al video. Materiali utilizzati solo 6.5. È una plastica che secondo me si rovina facilmente, è molto cheap, è molto leggerina come qualità, non mi ha entusiasmato dal punto di vista dei materiali. Ma questa cuffia va amata per la costruzione interna. Dentro hanno fatto un ottimo lavoro. Quattro microfoni all'interno di questi auricolari, due per auricolare, veramente buono il volume, i bassi sono veramente ben ottimizzati, i suoni alti e bassi bilanciati, a sincronia audio-video quasi nulla e porta di tipo C. Quindi tutte praticamente belle cose, magari un'altra bella cosa è che non sono in ear, vanno solo appoggiati al lobo del vostro orecchio. Questa cosa può far piacere a tanti di voi che non hanno piacere nell'infilarsi il gommino all'orecchio. Costano 36€, spesso vanno in offerta 31€, quindi qui con 30€ siamo su una qualità molto molto alta, una qualità prezzo sicuramente da tenere in considerazione. E parliamo di loro, le Soundpeats, le True Buds, costano 39€ ufficialmente, ma spessissimo, vanno in offerta a 28-29€. Queste, a differenza delle rivali, hanno la porta USB che porta fuori l'energia, quindi una custodia che serve da power bank, 2600 mAh, oltre la porta di ricarica di tipo C. notate anche la gobba che contiene la batteria, sono cuffie abbastanza ingombranti, vi faccio vedere la differenza con le Onyx Ace, quindi ragazzi se volete una cuffia tascabile, sappiate che questa lo è, questa è poco tascabile, ma c'è anche un motivo, porta fuori l'energia, questa cuffia ha la batteria più grande, la batteria più duratura, ha la possibilità di ricaricare il vostro telefono, quindi se potete, se avete uno zainetto, un marsupio, eccetera, eccetera, o le tasche larghe, queste cuffie vanno sicuramente bene. Cuffie anche più allungate rispetto al normale, guardate, sono abbastanza lunghe, anche queste non sono in ear, si appoggiano semplicemente al lobo del vostro orecchio, e vanno a scontrarsi con le Tron Smart Onyx Ace, dal punto di vista sonoro, perché hanno ottimi bassi, hanno un ottimo volume, quindi aspetta a voi decidere se preferite magari un oggetto più ingombrante, ma che svolge la funzione anche di Power Bank, oppure un oggetto molto più snello, più leggero, più sottile, che si porta meglio, ma ovviamente i materiali qua vanno sul risparmio, qui c'è un materiale migliore, c'è una qualità costruttiva migliore, si vede anche ad occhio che questa cuffia è ben realizzata, quindi questa è sicuramente da tenere in considerazione, anche perché se la trovate in offerta, la pagate meno delle Tron Smart Onyx Ace. 8 alla qualità costruttiva di queste cuffie, 8 sicuramente alla batteria, suono, chiamata e musica, insomma le cuffie nel vero senso della parola, a voto 7,5, si scontrano veramente con le Onyx Ace. L'ultima cuffia che prendiamo in considerazione è questa, cuffie di Aukey, che ricordano anche esse le cuffie di Apple, le Pro, vi faccio vedere anche di nuovo le Honor Choice, concezioni diverse, ma comunque simili, quindi colorazione bianca o nera, con i gommini, e un design che abbiamo già visto, entrambe si ricaricano con la porta di tipo C, 4 i leddini, su queste cuffie c'è tanto da dire, ne ho parlato tanto nella recensione, mi sono piaciute a sorpresa, non mi aspettavo una qualità del genere, perché hanno un volume, hanno una potenza sonora, veramente alta di qualità, un volume che va a battere sicuramente queste due, che sono cuffie secondo me best buy a 30 euro, loro, le cuffie di Aukey, riescono a fare ancora meglio, quindi super super contento di queste cuffie, che hanno un volume spacca timpani, anche la qualità delle conversazioni è molto molto buona, riuscirete a fare le vostre telefonate senza problemi, i bassi sono buoni, e anche la batteria svolge un ottimo lavoro, quindi cuffie approvatissime, approvatissime e un pochino meno nel prezzo, perché hanno un prezzo di 59,99 euro, spesso con i coupon si aggirano intorno ai 50 euro, questa è l'unica cuffia che sfora il budget dei 40, ma ho voluto segnalarvela, magari se potete spendere quei 10 euro in più, perché ha un volume molto molto importante, quindi magari quelli che amano sentire la musica, palla con un volume alto, beh, consideratele, perché sono molto buone materiali, materiali 8, qualità sonora 7,5, ma anche 8, insomma, simile a quella delle Tron Smart Onyx Ace, solamente le Onyx Ace hanno dei bassi, secondo me migliori, qua c'è un volume che spacca veramente, ma i bassi sono, secondo me, leggermente inferiori. Credo di avervi detto tutto, a questo punto, io, beh, vi faccio vedere tutte le cuffie, di cui io vi ho parlato, a questo punto aspetto i vostri commenti, se io dovessi scegliere fra tutte queste, la mia preferita, vi dico la verità, non saprei quale scegliere, ma vi dico questo, io ultimamente sto usando loro le Tron Smart Onyx Ace, semplicemente perché? Perché sono leggere, io non corro, non faccio molto sport, quindi queste le uso semplicemente per andare, a camminare, per stare a casa, sono leggere, non si sentono all'orecchio, non danno alcuna noia, e la qualità dei bassi è molto, molto alta, quindi nel complesso sono le mie preferite. Al secondo posto, una di queste due, queste per il non-in-ear e la super batteria con il case di ricarica, queste per l'in-ear e un volume veramente alto. Il resto, beh, le avete viste in questo video, fatemi sapere le vostre cuffie preferite, se avete acquistato un modello fra questi elencati, ovviamente troverete il link all'acquisto sotto, qua sotto al video. Allora, ragazzi, buon acquisto, buona scelta, buone cuffiettine, ce ne sono tante, io farò altri video di questo tipo, se li gradirete, fatemi sapere, e noi ci sentiamo prossimamente con una nuova recensione. Ciao!